Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao a tutti, sono Scott negli Stati Uniti, sono americano e in questo video esploriamo un argomento molto interessante secondo me e questo è la Befana negli Stati Uniti, sì, sì, sì. Infatti la Befana non esiste negli Stati Uniti e quindi non ne abbiamo mai sentito parlare.